la realizzazione e l'attuazione dell'agenda di genere della regione Puglia che è la strategia regionale per la parità di genere proprio perché è un bando messo a disposizione dell'intero sistema produttivo pugliese per acquistire la certificazione di genere che è un nuovo strumento introdotto anche con legge nazionale oltre che dal PNRR come linea strategica e anche all'interno del nuovo codice degli appalti per poter dotare il sistema produttivo pugliese, le imprese pugliesi di questa specifica certificazione attraverso anche il sostegno economico di regione Puglia una certificazione che poi grazie alla quale si acquisiscono dei punteggi delle agevolazioni all'interno dei bandi e degli appalti pubblici è una misura che contribuisce a creare un sistema produttivo più inclusivo e più rispettoso della parità di genere quindi un sistema anche di organizzazione del lavoro che tenga conto di quelle che sono le esigenze delle donne soprattutto in termini di conciliazione vita-lavoro e anche per la parità sanitaria